Sulla scorta di un incontro cui ho partecipato al Salone del Libro di Torino voglio parlarvi di sette paure che molto spesso bloccano chi inizia a scrivere oppure chi ha già cominciato a scrivere e ad un certo punto inspiegabilmente si ferma, si blocca. Per l'appunto voglio aiutarvi a riflettere su quali possano essere queste paure. Lo facciamo però subito dopo la sigla. Ebbene sì, perché sembra che ci sia questo numero magico, numero particolare, numero simbolicamente significativo di paure, cioè sette, che accompagna in tutto l'arco della sua carriera, in tutto l'arco della sua espressione artistica, ogni singolo scrittore o scrittrice. Quindi non è qualche cosa che attiene soltanto agli inizi o perlomeno alcune di queste paure che vi dirò hanno a che fare soprattutto con gli inizi di una carriera nell'ambito della scrittura. Mentre le altre, per lo più la maggior parte di queste, in realtà ci accompagnano per sempre. Ma allora vediamo quali sono. Ovviamente mi avvarrò dei miei appunti, ma ho scritto soltanto i titoli, per il resto parlerò. Abbraccio. Allora, la prima paura è la paura del rifiuto. Ma che cosa vuol dire paura del rifiuto? Rifiuto da parte di chi? Rifiuto da parte dell'editore? Sì, anche, ma non soltanto. Paura del rifiuto da parte del lettore. Perché quando noi scriviamo qualche cosa spostiamo il focus da noi al lettore e quindi noi andiamo a proporre qualche cosa al lettore con il quale noi dobbiamo essere coraggiosi, cioè dobbiamo avere il coraggio di proporgli il nostro punto di vista, di proporgli le nostre riflessioni, le nostre considerazioni attraverso quel racconto oppure attraverso quel saggio che noi stiamo scrivendo. Perché potremmo pensare di non avere nulla di particolare da dire. E invece il punto di vista di ogni autore o di ogni autrice è sempre diverso da quello degli altri. Certo, alla base ci deve essere la consapevolezza che si abbia effettivamente qualche cosa da dire e che perciò la carriera di scrittore o comunque l'attitudine alla scrittura faccia parte di noi. Ma la paura del rifiuto è sicuramente una delle prime paure che si segnalano nell'esperienza di chi si mette a scrivere. Dicevo anche paura di essere rifiutati da parte dell'editore. Indubbiamente quando poi noi dobbiamo proporre il nostro testo all'editore questo è uno dei principali motivi per cui molto spesso ritardiamo la proposta agli editori. Cioè quella di essere rifiutati. E il rifiuto è ciò che per lo più avviene quando noi scriviamo e poi ci troviamo a proporre qualcosa agli editori. Di solito quello che accade è di venire rifiutati. Però poi succede che una volta su 10, una volta su 20, una volta su 30, dipende dalla fortuna, dalla bravura, ma anche dagli editori ai quali ci rivolgiamo, succede che l'editore ti dica sì sono interessato a quello che mi stai proponendo, voglio pubblicartelo. Però ecco che quindi ci troviamo ad avere a che fare con questo rifiuto possibile. La paura del rifiuto è sicuramente uno dei principali motivi per i quali noi non ci mettiamo mai in azione nei confronti della scrittura. Quindi rifiuto da parte del lettore, ma anche rifiuto da parte dell'editore. Secondo motivo, il rifiuto di non essere abbastanza bravi, scusate il rifiuto, la paura di non essere abbastanza bravi. Cosa vuol dire la paura di non essere abbastanza bravi? Vuol dire che quando ci mettiamo a scrivere abbiamo molto spesso delle insicurezze, delle incertezze personali. Per cui dobbiamo convincerci con un lungo processo di avvicinamento progressivo alla nostra sicurezza che effettivamente abbiamo gli strumenti e le capacità per riuscire a raggiungere il lettore, nonché gli editori ovviamente, ma pensiamo al lettore in modo particolare. Però poi succede solitamente che noi ci mettiamo a confronto con gli altri autori o le altre autrici. Leggiamo i loro libri e quindi incominciamo a riflettere su quanto magari siano bravi o brave. Dunque iniziamo a porci tutta una serie di interrogativi, ci facciamo venire dei dubbi, degli scrupoli e iniziamo a chiederci se siamo veramente così bravi. Ecco, questa è una di quelle paure che normalmente accompagnano tutta la vita di uno scrittore, nel senso che ad un certo punto uno scrittore sicuramente si convincerà di avere il proprio stile, la propria capacità e di avere i propri strumenti a disposizione per fare arrivare le proprie narrazioni. Però continuerà comunque a mettersi a confronto con gli altri e dunque continuerà a chiedersi se non ci sia la possibilità di migliorare. La risposta è che normalmente sì, c'è sempre la possibilità di migliorarsi. Però ecco che il timore più o meno nascosto, più o meno evidente di non essere abbastanza bravi, continuerà a spuntare sempre. Questa è un'altra paura perciò con cui dobbiamo fare i conti. Poi, terza paura, la paura del successo. Sembrerà incredibile, ma in realtà anche la possibilità di avere successo è qualche cosa che potrebbe bloccarti sul tuo percorso di autrice o di autore. Perché? Perché il successo in realtà è una conferma che anche tu ce la puoi fare, ma soprattutto che qualche cosa di inaspettato può accadere. Perché al successo segue sempre qualche cosa di assolutamente inaspettato e noi difficilmente amiamo, vero, quello che è inaspettato, quello che è imprevedibile. Quindi il successo è anche questa una possibilità che può crearci qualche timore. È una paura che normalmente si nasconde molto e si trucca, si maschera da qualcos'altro. Motivo per cui ad un certo punto percepiamo che c'è qualcosa che ci sta bloccando per poi scoprire, magari dopo un lungo processo di approfondimento interiore, che quello che ci fa veramente paura è di riuscire nel nostro intento, di riuscire a raggiungere il nostro obiettivo, di ottenere soprattutto quello che ci aspettiamo. Forse è una forma un po' nascosta di disistima, no? Cioè noi non crediamo magari fino in fondo di meritarci il successo e quindi non possiamo ammettere che effettivamente ad un certo punto potremmo anche averlo. E nel momento in cui arriva ecco che il successo ci spaventa o ci disorienta addirittura l'idea di poterlo avere. Quindi paura del successo. Arriviamo alla quarta paura. Quarta paura? Paura di rivelare troppo di noi stessi. Ebbene sì perché la scrittura è una come posso dire è quella narrazione, ci porta a narrare, ci porta a costruire qualche cosa che ad un certo punto ci mette in gioco, ci chiama in ballo, no? E quindi inizia ad esporci più o meno manifestamente, più o meno velatamente. La scrittura, se è scrittura profonda, scrittura vera, dice sempre qualche cosa di noi. Però attenzione non bisogna fare l'errore di pensare che dica troppo di noi perché non è mai così. In realtà sebbene ci siano alcuni lettori che molto sbagliando credono che quello che viene detto all'interno di un libro, di un romanzo, sia il riflesso del pensiero del suo autore, in realtà non è mai così perché la narrazione di un romanzo, di una storia, di un racconto è sempre una mediazione attraverso la razionalità del suo autore o della sua autrice. Per questo motivo ciò che arriva sulla pagina pubblicata, stampata, venduta, è sempre qualche cosa di molto diverso rispetto a ciò che pensa l'autore. Non si può mai dire con sicurezza che cosa corrisponde al pensiero dell'autore oppure che cosa invece non ci corrisponda. Ciò nonostante, comunque una delle più grandi paure degli autori è proprio quella di sentirsi in qualche modo denudati o scoperti di fronte ai lettori, soprattutto quando si trova a dover raccontare o descrivere oppure a trasporre delle scene che sono particolarmente sensibili, no? Che ne so, scene di nudo piuttosto che scene di violenza particolare, scene in cui si manifestano sentimenti interiori che magari noi stessi fatichiamo a mostrare in pubblico in quanto autori e in quanto autrici. Ecco che nel momento in cui li mettiamo sulla pagina ci possiamo, ci potremmo chiedere, ma non è che qui si capisce troppo che effettivamente sono io che penso e che vivo questa cosa direttamente. La paura di essere scoperti, di rivelare troppo è dunque una di quelle paure che a volte potrebbe limitare la nostra capacità di espressione, la nostra libertà di espressione all'interno della storia. Io vi invito perciò a superarla sempre e comunque. Mi fermo un attimo perché voglio chiederti se hai scoperto tutti i servizi che io propongo su alberodelmistero.com. Vai su alberodelmistero.com e vedrai che ci sono molti corsi, mini corsi da 30, 40 e 50 euro che sono dedicati ad aspetti singoli dell'approfondimento della propria capacità di scrittura. Però poi ci sono anche dei corsi molto più ampi, addirittura c'è un intero corso, si chiama il mistero della scrittura che dura oltre 30 e tra le 30 e 35 ore di insegnamento che ti dà tutti i fondamenti necessari, gli approfondimenti con esercizi, quiz, materiale didattico e webinar eccetera eccetera che ti permetteranno di diventare uno scrittore a tutti gli effetti. Inoltre avrai sempre il mio supporto personale, potrai sempre confrontarti con me. C'è una monetizzazione in atto per cui ogni corso che comprerai ti darà diritto ad un certo tipo di sconto sull'acquisto di ulteriori servizi di albero del mistero. Detto questo insomma io ti invito ad andare per l'appunto su alberodelmistero.com iscriverti alla newsletter e scoprire tutti i corsi che ti propongo. Ma torniamo a noi perché adesso dobbiamo parlare della quinta paura che di solito blocca uno scrittore. La quinta paura è la paura di scrivere un solo libro. Perché? Provate a immaginare. Finalmente dopo tanta fatica, dopo con tanto sforzo anche, con tanta riflessione interiore, con tanto lavoro, siamo riusciti ad arrivare al termine del nostro primo romanzo. Magari riusciamo addirittura a pubblicarlo e ha anche successo. Soprattutto in questo ultimo caso, quando ha tanto successo, quando ottiene tanto riconoscimento, potrebbe nascere la paura di non riuscire a pubblicarne un altro nuovo. Cioè di non riuscire a dar vita ad un'altra pubblicazione, soprattutto se la prima era molto complessa nella struttura, nella trama, nell'avvicendamento interno. Ecco che allora la paura di scrivere soltanto un libro incomincia a manifestarsi, no, magari proprio con un blocco dello scrittore, famoso blocco dello scrittore, che in realtà io penso che sia una paura irreale, non è mai veramente fondata perché ci sono tutta una serie di metodi, di approcci che servono per capire come superare esattamente quella paura e quindi scoprire che non è mai qualcosa di veramente reale. Però la paura di scrivere un solo libro è indubbiamente uno di quei timori che potrebbe bloccarti sul tuo percorso oppure potrebbe toglierti la serenità, potresti anche non dormirci la notte. Ti invito a riflettere sul fatto che se abbiamo scritto un libro, il fatto di non riuscirne a scrivere un altro è un po' un racconto filmico, romanzesco, non è mai qualche cosa di veramente reale, perché anche chi ha pubblicato nella sua vita soltanto un libro, prendete per esempio Salinger, no, il giovane Holden, non è che abbia pubblicato soltanto quel libro mentre era in vita perché non è riuscito a scrivere altro, lui ha scritto una marea di roba e soltanto che lui ha deciso di non pubblicare altro, quindi il discorso è ben diverso. E più o meno tutti gli altri casi, perché anche la Harper che ha scritto mentre era in vita soltanto, ha pubblicato soltanto un libro, no, il buio oltre la siepe, ecco che poi si scopre che in realtà lei ha scritto molte altre cose e posto, ma poi è stato pubblicato un secondo libro che in qualche modo anche di seguito, se vogliamo, del buio oltre la siepe. Insomma, non pensiate che sia un qualche cosa di reale il fatto di poter pubblicare soltanto un libro, perché non lo è. Anzi, meglio, mi esprimo meglio, non è reale l'idea di riuscire a scrivere soltanto un libro. Se fate sicuri che riuscirete a scriverne anche tanti altri. Discorso diverso è il fatto di riuscire a pubblicare. Magari uno riesce a pubblicarne soltanto uno, per tutta una serie di motivi non riesce a pubblicarne altri con l'editoria tradizionale, ma ormai sappiamo che l'editoria self-publishing è a portata di mano e quindi anche questo spauracchio in realtà viene a cadere. Perciò paura di scrivere un solo libro. Veniamo allora al sesto, immaginate, mettiamo anche l'altra mano, sesta paura. La sesta paura è la paura di essere troppo vecchi per incominciare, per mettersi a scrivere, per iniziare a pubblicare, per iniziare una carriera di scrittori. Questa è una falsità assoluta, però capisco che possa venire anche il timore. Non si è mai troppo vecchi per cominciare a scrivere. Potete cominciare a qualsiasi età, perché in realtà la narrazione fa parte di noi. Vale sempre la pena iniziare a scrivere. Che voi abbiate 15 anni, 20 anni, 30 anni, 40 oppure 70 anni, vale sempre la pena iniziare a scrivere. Per tutta una serie di motivi. Prima di tutto perché non si scrive per arrivare con certezza alla pubblicazione o per diventare famosi, ma si scrive perché in realtà si vuole trovare il modo di comunicare agli altri, ai lettori, qualche cosa che a noi sta molto a cuore. Allora ecco che incominciamo a mettere sotto forma di narrazione oppure di saggio il nostro pensiero, il nostro vissuto. E quindi ecco che nascono le storie. Insomma, ha sempre senso questo. Che voi abbiate 20 anni o che ne abbiate 70-80. D'accordo? L'importante però è ovviamente che vi armiate di buona volontà, perché poi il processo per imparare a scrivere delle storie è comunque più complicato che il semplice processo di imparare a scrivere come quando noi andiamo a scuola. La scrittura è sempre qualche cosa ovviamente di completamente diverso, però lo si può fare a qualsiasi età. E veniamo all'ultima paura, la settima paura, che è la paura di fare ricerca. Cioè quando noi scriviamo un romanzo o quando anche scriviamo un saggio, noi dobbiamo precedere la fase della scrittura vera e propria da una approfondita ricerca, da un approfondimento che ci porta via del tempo, ore, giorni, mesi, in modo da sviluppare e sviscerare per bene il nostro tema, il tema della nostra storia. Ecco che la ricerca che abbiamo di fronte può essere una paura reale che ci accompagna sempre in ogni momento della nostra carriera di scrittori, che voi abbiate appena iniziato, che dobbiate appena iniziare oppure che abbiate già cominciato da molto tempo. Perché la ricerca è comunque qualche cosa di faticoso e di corposo solitamente, di impegnativo, però vale la pena sempre essere fatta e poi offre in realtà delle occasioni veramente gustose, succose, importanti e interessanti per sviluppare la nostra curiosità. Quindi la ricerca è qualche cosa che va assolutamente fatto, che però potrebbe diventare un ostacolo per il timore che suscita. Sarò io in grado di affrontare la ricerca necessaria, soprattutto quella sufficiente, giusta per poter poi scrivere la mia storia oppure il mio saggio. Però anche di questo non spaventatevi, perché in realtà la ricerca inizia prima, però poi ad un certo punto voi ti metterete a scrivere e la ricerca continuerà anche dopo mentre scriverete. Quindi non bisogna neanche mai separare a camere stagne le fasi della scrittura. Non è che c'è tutta una fase di un anno e mezzo di scrittura, come a volte sento anche dire. A me stupiscono sempre molto quegli scrittori che dicono ah io ho fatto ricerca per un anno, per un anno e mezzo, per due anni non ho fatto altro che accumulare dati, accumulare frutto, il frutto della mia ricerca e solo dopo mi sono messo a scrivere perché quando ho cominciato a scrivere ero così pieno della ricerca che avevo fatto che la scrittura è venuta fuori così. Guardate questa cosa non esiste, non esiste. Ci sarà un momento in cui ad un certo punto la vostra scrittura inizierà, inizierà, a parte il fatto che già la ricerca è una fase della scrittura, ma la scrittura vera e propria sulla carta inizierà e si nutrirà della ricerca che avrete fatto, però ad un certo punto arriverete ad una fase della vostra narrazione in cui vi renderete conto che sarà necessaria altra ricerca e quindi poi la ricerca andrà di pari passo con la vostra scrittura. Quindi non lasciatevi bloccare nemmeno dalla paura della ricerca. Ecco qui dunque che vi ho illustrato quali sono queste sette paure. Ve le ripeto soltanto i titoli. La paura del rifiuto, la paura di non essere bravi abbastanza, la paura del successo, la paura di rivelare troppo di voi stessi, la paura di scrivere un solo libro, la paura di essere troppo vecchi e la paura di fare la ricerca. Ditemi voi che cosa ne pensate se vivete una di queste paure, ma immagino di sì se siete degli scrittori che mi seguite o delle scrittrici che mi seguite, ditemi magari qual è la paura che effettivamente a volte vi blocca e soprattutto vi faccio un invito. Se c'è qualche paura che vi blocca in modo tale che non riuscite effettivamente a proseguire nel vostro cammino, scrivetemi una mail a info chiocciolalberodimistero.com per un confronto. Io vi do una risposta assolutamente gratuitamente, non è che io per ogni cosa che vi dico pretenda di essere pagato. È vero che lo faccio come lavoro, ma se voi chiedete a chi ha usato i miei servizi vedrete che in realtà io partecipo alla creazione delle vostre storie e al miglioramento del vostro cammino personale di scrittori e di scrittrici in maniera molto spesso gratuita. Perché? Perché la conoscenza del proprio mestiere va per lo più condivisa. Poi certo, ripeto, ci sono aspetti a pagamento perché comunque è il mio lavoro. Però voi senza farvi problemi scrivetemi a infochiocciolalberodimistero.com, esponetemi il vostro problema, ciò che magari vi blocca e io sicuramente vi risponderò senza problemi. Vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto questo video e a presto. Ciao!